Dal 24 al 30 agosto, le forze armate della Federazione Russa, le forze combattenti con massicci attacchi di gruppi e 14 attacchi con armi di precisione a lungo raggio, missili aerobalistici ipersonici, Kinsal e droni d'attacco hanno colpito obiettivi critici dell'infrastruttura energetica e aeroportuale dell'Ucraina, depositi di carburante, arsenali, mezzi aerei occidentali e munizioni d'artiglieria. Inoltre, sono stati colpiti i reparti di produzione di droni, depositi di imbarcazioni senza equipaggio, punti di dislocazione temporanea delle unità delle formazioni nazionaliste e dei mercenari stranieri. Durante la settimana, le unità del gruppo Al-Sever hanno continuato a distruggere le formazioni delle forze armate ucraine nella regione di Kursk. Attacchi tattico-operativi, aviazione dell'esercito, droni e fuoco di artiglieria, hanno colpito il personale e le attrezzature delle unità di quattro brigate meccanizzate, una corazzata, due brigate d'assalto aereo delle forze armate ucraine e tre brigate di difesa territoriale. Inoltre, sono stati sventati i tentativi di trasferire riserve nemiche dall'Ucraina. Nelle aree di Volchansk e Liptsi, colpite una brigata di fanteria di marina, due di difesa territoriale e due della Guardia nazionale. In una settimana, nella zona di responsabilità del gruppo dell'OMS Nord, le perdite del nemico ammontano a fino a 3.580 militari, sei carri armati, 181 veicoli corazzati da combattimento e 103 automobili. Sono stati distrutti quattro sistemi lanciarazzi multipli, tra cui uno Haimer di produzione statunitense. Distrutti 35 pezzi di artiglieria da campo e 12 stazioni di guerra elettronica. Grazie alle azioni coordinate del gruppo Ovest, sono stati liberati Stelmakovka nella Repubblica Popolare di Lugansk e Senkovka nella regione di Kharkiv. Sono state inflitte perdite a sei brigate delle forze armate ucraine, tra cui brigate di carri armati ed assalto, due di difesa territoriale e una brigata Azov. Sono stati respinti 34 contrattacchi delle forze armate ucraine. L'avversario ha perso, in questa direzione e in una settimana, oltre 3.450 militari, due carri armati, 11 veicoli corazzati da combattimento, tra cui 3 M113 APC americani, 51 veicoli. Durante la lotta contro batteria sono stati colpiti un lanciatore di sistema a razzi RAC 112 e 38 pezzi di artiglieria da campo, tra cui 18 sistemi di artiglieria semovente e obici calibro 150 mm di produzione occidentale. Sono state distrutte 16 stazioni di guerra elettronica e contro batteria, nonché 18 depositi di munizioni da campo. Unità del gruppo meridionale hanno liberato l'insediamento di Konstantinovka nella DNR con azioni decisive. Colpite tre brigate meccanizzate, due di fanteria motorizzata, due di fanteria, una aeromobile, quattro d'assalto e due di difesa territoriale ucraine. Respinti 5 contrattacchi del gruppo d'assalto nemico. Le forze armate dell'Ucraina hanno perso oltre 4.840 militari in questa direzione durante la settimana. Carri armati Abrams di produzione USA e Leopard di produzione FRG. Quattro veicoli corazzati da combattimento, 60 autoveicoli e 57 cannoni di artiglieria da campo, di cui 23 di produzione NATO. Sono state distrutte 11 stazioni di guerra elettronica e 16 depositi di munizioni. Le unità del gruppo Voice & Center hanno liberato Orlovka, Kamishevka, Nikolaevka e Novo Gelannaia nella Repubblica Popolare di Donetsk. Sono state colpite 7 brigate meccanizzate, 2 brigate di Jäger, una brigata aviotrasportata, una brigata d'assalto, 2 brigate di difesa territoriale e una brigata d'assalto Liut della Polizia Nazionale Ucraina. Respinti 50 contrattacchi delle unità armate ucraine. Durante la settimana, in questa direzione, il nemico ha perso circa 3.620 militari, 7 carri armati e 14 veicoli corazzati, tra cui un Marder tedesco e due M113 americani. 38 veicoli, un sistema di lancio Grad e 42 pezzi di artiglieria campale. Le unità del gruppo Vostok hanno occupato posizioni favorevoli, causando perdite a 2 brigate meccanizzate e motorizzate e 4 di difesa territoriale ucraine. Sono stati respinti 18 contrattacchi delle forze armate ucraine. Il nemico in questa direzione ha perso fino a 860 militari, 7 veicoli corazzati da combattimento, 43 autoveicoli, 11 pezzi di artiglieria campale, tra cui 7 obici semoventi da 155 millitre e hovitzer di fabbricazione occidentale, nonché 4 stazioni di guerra elettronica. Dalle unità del raggruppamento Vosnepa sono state inflitte perdite significative alla fanteria, brigata d'assalto di montagna, 2 brigate di fanteria di marina e una di difesa territoriale ucraine. In una settimana, le perdite totali delle forze armate ucraine raggiungono circa 460 militari, 2 veicoli corazzati, 32 autoveicoli e 16 pezzi di artiglieria campale, inclusi 6 americani. Obici da 155. Sono stati distrutti anche 7 stazioni di guerra elettronica e 3 depositi di munizioni. Con i mezzi di difesa antiaerea, durante la settimana, è stato abbattuto un aereo MIGI-29 dell'aeronautica ucraina, 3 missili tattici Atacom di fabbricazione statunitense, 4 missili tattici Tocchka-U. 19 bombe guidate. Hammer fabbricate in Francia. 31 razzi HIMARS fabbricati negli Stati Uniti e 311 droni, di cui 127 fuori dalla zona dell'operazione militare speciale. Le forze della flotta del Mar Nero hanno distrutto 6 barche senza equipaggio ucraine. Durante la settimana, sulla linea di contatto del fronte, si sono arresi 58 militari ucraini. Dall'inizio dell'operazione speciale sono stati distrutti un totale di 641 aerei, 283 elicotteri, 30.701 droni, 575 sistemi missilistici antiaerei, 17.783 carri armati e altri veicoli corazzati da combattimento, 1431 veicoli da combattimento del sistema a razzo a lancio multiplo, 13.809 cannoni di artiglieria da campo e mortai, 25.847 unità di veicoli militari speciali. Grazie Grazie